Ho avuto un'idea! Mi posso truccare? Ragazzi, ma secondo voi mi posso fidare? Benvenuto Dracula, vero? Ora devo fare solo gli occhi neri e abbiamo finito! Che c'è, Kikko? Ma lo sei fatto all'occhio, andiamo! Vieni, andiamo in maniera sciacchiamo! È tutto arrossato! Brucia! Che noia! Vedo se Kikko vuole giocare a qualcosa! Almeno ci divertiamo un po'! Kikko, vuole giocare a qualcosa? Ok, vorrei giocare a qualcosa! Ti ricordi io regolamenti siamo divertiti giocando con i me? Giochiamoci di nuovo! Stavolta però mi nascondo io! E tu mi spari! Speriamo che vinco comunque io però! Ok, accetto la sfida! Andiamo! Non puoi prendere il fucile! Ieri tu ti sei nascosto e hai preso il fucile con il mirino! E io ho preso la pistola! Tu devi prendere la pistola adesso! E io devo prendere il fucile perché mi devo difendere! Intanto ti sparo lo stesso! Ti do cinque minuti per nasconderti! Tu non ti sparo il fucile! No! Ti do cinque minuti per nasconderti! Non ti sparo l'ho presa! Non ti sparo! Non ti sparo l'ho presa! No! E io devo prendere la pistola! Ok! Sì, va benissimo. Nella vasca. Appena entra, gli faccio la testa. Per l'anno passare i 5 minuti. Non mi interessa, vado a cercarla. Qui non c'è. Ragazzi, ma è possibile che Giulia sia nascosta in camera da letto dove mi sono nascosto io? Prima cosa mi tolgo questa maschera. Ma come fa Spider-Man a tenere sempre questa maschera? Adesso andiamo a cercare Giulia. Ragazzi, vi farò un bello scherzetto se Giulia si è messa qui. Non c'è! Ragazzi, tu vuoi essere... Sotto la scala! Ti ho beccato! Non c'è! In bagno! Aria, 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 cattiva! Ah, ti ho beccato! Te l'avevo detto che non mi avresti trovata! Lei invece ti ho trovato! È soltanto che non ti ho sparato! La tazza ti sparo! Maggia, mi fanno male! Ti fanno male! Ti sta bene, ora siamo pari! Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Ho sentito Giulia e Kikko strillare come dei matti! Credo sia il caso di andare a controllare! Che succede qua? Sento delle urla! Papà, Giulia mi ha sparato e mi ha fatto tanto tanto male alla gamba! E anche lui mi ha sparato in braccio e mi ha fatto male! Allora, io devo andare a prendere delle cose che ho dimenticato di prendere stamattina! Devo andare al supermercato di fronte e ci metterò pochissimo! Però, visto quello che combinate, i nerf ve li sequestro, i nascondo e te li giudo dopo o forse anche domani! Credo che ormai abbiate già dato con questi! Ok, fate qualche altra cosa! Io vengo subito! Ciao! Con l'erf ci siamo fatti male! Ma ci siamo divertiti! Adesso cosa facciamo? Ho avuto l'idea! Ma non so se ti piace tanto! Di! Ti posso truccare? No, no, io sono un maschietto! Ma io non dico rossietto ombre! Io dico da carnevale! Ehm... Ok! Aspetta, vado a vedere da cosa ti posso travestire! Che ne dici di Dracula? Dracula? Sì, mi piace! Sì, 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 sì! Ok! Allora vado a prendere tutto l'occorrente! Ok, ragazzi! Mi serve una palette! Poi... La matita, uno sgabbello e... Ehm... Un pennello! Tutte queste cose! E poi posso fare i dragola! Eccolo, sgabbello! Mettete comodo! Vado a prendere le altre cose! Ragazzi, ma secondo voi mi posso fidare? E' cascato tutto! Ok, possiamo iniziare! Giulia, dammi prima i denti! Almeno se fai la cattiva ti mordo! Ok! Allora, come lo posso fare Dracula? Innanzitutto Dracula è un po' pallido! Quindi... Gli farò un po' di faccia bianca! Io ho notato che Dracula sotto gli occhi ha sempre un po' nero! Iniziamo subito! Prendo un po' con il più bello questo bianco qui! Dracula, fatti vedere nella tua maestrosità! C'è tutto bianco! Tutto bianco pieno di brillantini! Copriamo questo rosso! Tu sei rosso! Non sei bianco! Sei un Dracula rosso! Ragazzi, sono sempre più sicuro che non mi devo fidare! Ok! Mi ho preso tanto! Speriamo che funzioni! Oh sì! Sta diventando proprio bianco! Stai diventando un Dracula! Vero! Tutti diranno Ma questo è veramente Dracula! Aiuto! Ok! Adesso devo fare... Faccio il sangue! Sì sì! Con... questo qua! Se non va bene questo prendo un rosso brillantinato! Sono pronta! Fai vedere i tuoi canini! Ok! Non si vede proprio bene! Allora proviamo il rosso brillantinato! Sì! Sarai un Dracula brillantinato! Ok! Oh questo sì che si vede! Benvenuto Dracula vero! Adesso ti faccio anche un po' le labbra e i canini! Non si vede proprio bene i suoi canini! Però adesso sembra un vero Dracula! Oh! Ha suonato papà! Vado ad aprirlo! Ciao papi! Guarda, non ci hai visto? Cinque minuti! Cosa state facendo? Io sto truccando a Cristian! Avete trovato qualcosa da fare senza farmi male? Sì! Andiamo a vedere! Voglio vedere! Guarda! L'ho truccato da Dracula! Ma quanto sei bello! Ti sta benissimo questo sangue! Lo sai chi l'ha truccato? Chi l'ha truccato? L'ho truccato io! Bravissimo! Sei stata molto brava! Però adesso provo ad avvicinarti a Cristian! Guarda che ti fa! L'hai detto in un modo come... Quasi mi hai... Messo paura! Perché sei così arrabbiato? Sono Dracula! Ora devo fare solo gli occhi neri e abbiamo finito! Puoi rimanere qui a guardarci! Io rimarrei pure, però... Mi stava per mordere! Io me ne vado! Ecco qua! Sei pronto per fare il primo occhio? Sei fermo, eh? Mamma mia! Che Dracula! Sembri proprio un vero Dracula! Sei quasi spaventoso! Anzi, lo è molto! Adesso tocca il secondo occhio prendo un altro po' di trucco e lo facciamo! Ecco qui! Siamo pronti! Kikko, però girati un pochino se no non ci arrivo! Aia! Aia! Che male! Aia! Aia! Oh no! L'ho preso nell'occhio! Papà! Che c'è Kikko? Ma cosa hai fatto all'occhio? Andiamo! La brucia! E' stato in bagno! La brucia! La brucia! lascia fare ancora un po è tutto arrossato dai asciughiamolo facciamo vedere l'occhietto tutto arrossato il dottore ha detto che dobbiamo mettere delle goccette del collilio e tutto passerà in fretta infatti adesso le andiamo a comprare vero si intanto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina e lasciate un bel mi piace chicco mi dispiace scusami